Un torneo di qualificazione è giocato bene, un po' faticoso visti anche gli avversari, però insomma una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione, per me è stata la mia prima esperienza nazionale ed è stata molto emozionante, soprattutto la prima partita, però siamo riuscite a sprazzi, a far vedere il nostro valore, il nostro gioco e ovviamente verso la fine la stanchezza si è vista e ci siamo lasciati un po' andare. Senti, qual è stata secondo te la cosa migliore che siete riusciti a fare durante queste game? Cioè cosa ti è piaciuto di più? Allora, beh, l'attacco e il muro, ma anche i fondamentali dietro, però di più l'attacco direi. Sei soddisfatta delle tue prestazioni? Sì, hai abbastanza, sì, si può fare meglio, però vabbè. Adesso si comincia a lavorare per il mondiale? Esatto, per il mondiale cercheremo di puntare a vincere ovviamente facendo le quattro. Ok. Quindi fare bene, diciamo che sì. Va bene, ciao, grazie. Ciao.